Tornano in piazza i lavoratori dell'ESAF, la ditta che per conto della regione Campania esegue la manutenzione delle strade provinciali sannite. Una delegazione di lavoratori e sindacati si è presentata presso gli uffici della provincia in Largo Carducci. Abbiamo affrontato il solito discorso di ritardosi di pagamento verso i lavoratori e di conseguenza abbiamo chiesto all'ente principale, che è la Cassa che deve pagare alla provincia, di regolarizzare questa situazione qua, perché mentre i nostri colleghi sulle altre province tutte le società e tutti gli enti rispettano i fondi da stanziare alla società per far pagare gli stipendi, mentre qua ci sono sempre dei ritardosi di pagamento. Oltre ai ritardi nei pagamenti i lavoratori chiedono di migliorare l'organizzazione stessa del lavoro. Il capannone di Forchia oltre ad avere un'esigenza di divisione di produzione tra primo e secondo lotto ha anche delle caratteristiche di sicurezza per un numero di quasi 200 unità rispetto a quello là che è ubicato oggi a Via Rotary, oltre ad avere una vicinanza per i lavoratori che vengono quasi tutti dalla provincia di Napoli. E a riguardo la provincia ha chiarito che non mancherà di segnalare formalmente alla regione Campania che a suo tempo individuò l'azienda, gli inadempimenti, i ritardi e i disservizi dell'appaltatore che finiscono con il determinare le proteste dei lavoratori e creare disagi e problemi di diversa natura. Grazie.